Questa sera siamo ospiti di Trattoria Argentina a Refrontolo, l'unico ristorante argentino inserito nella guida a gambero rosso con ben due mappamondi su tre. E essere accettato di questa quintella vendita vuol dire che fai bene, è una bella faccia. Il mate è una bella banda tipica argentina, si beve calda, chiaramente. E oggi però la beremo a presto. Oggi non si può, si beve un infusione che si beve su un contenitore, che solitamente è una zucca, e l'acqua calda. Questa invece è un'infusione all'88% di mate e tè nero, con limone, arancia e pompelmo, senza aggiunta di zucchero. Leggermente frizzantino. Bene, provo volentieri. E' molto rinfrescante. Mate. Facciamo un brindisi argentino? Esatto. Yes, io col mio mate. Ok, sono arrivate le nostre empanadas. Esatto, mentre Gago ha rovinato questa focaccia con patta negra. Adesso assaggiamo, yes. Abbiamo la salsa chimiciurri con origano, perperoncino e altre cose. E la salsa giardinica, come ricordo nel mio originale. Riccio, animelle. La mocea. E queste ci ripete cosa sono? Manioca. Manioca. Manioca fritta, patatina al mais. Perfetto, grazie. Buona continuazione. Bene. Grazie. 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 Grazie.